Torna a vincere la capolista, torna a conoscere l'amarezza della sconfitta al Picerno, pronostico rispettato al Viviani di Potenza nella prima di una lunga serie di partite a porte chiuse, la spunta con il punteggio di 2-0 la regina che riscatta prontamente lo scivolone interno con il Monopoli e torna momentaneamente a più 10 sul Bari impegnato nel posticipo di lunedì sera a Catanzaro. I Lucani, autori complessivamente di una buona gara, restano invece a quota 32 punti in piena corsa per la salvezza diretta, scattano meglio dei blocchi calabreschi che dopo 6 minuti mettono la freccia del sorpasso al primo vero tentativo in attacco, Nielsen per Rivas, Rivas per Paolucci, abile a raccogliere il cross e ad insaccare di prima intenzione la rete del vantaggio, esordio dal primo minuto con gol dunque per il 21 della regina, il Picerno non porge l'altra guancia, punizione insidiosa di Vrdoliak diretta in aria, ma nessuno dei suoi compagni sfrutta l'invito. La contessa è vivace, quarto d'ora, Rivas in palla, ci prova con il destro a giro, Pan riesce a deviare in angolo, insistono gli ospiti, Paolucci cerca il bis a livello personale, la replica del portiere dei Lucani è efficace. I padroni di casa vanno a segno ma inutilmente dopo la mezz'ora, Lorenzini disegna il traversone, Sant'Agnello batte guarna con un gran colpo di testa, l'arbitro su indicazione dell'assistente annulla per fuori gioco tra le proteste degli uomini di Domenico Giacomarro. I Lucani giocano con buona personalità pur essendo inferiori tecnicamente alla prima della classe, tentativo mancino di Kosovan che si perde sul fondo, ancora rosso-blu, Sant'Agnello sceglie la soluzione acrobatica, ma la conclusione è debole e centrale. Finale di tempo con chance per gli amaranto scesi in campo in maglia bianca, l'incornata di Rivas però è fuori bersaglio. Il risultato resta congelato sino all'intervallo, Regina avanti di un gol a metà gara, la ripresa si apre con un destro incontro balzo di Sant'Agnello che non c'entra allo specchio. I padroni di casa non hanno alcun timore della prima della classe e continuano a spingere sull'acceleratore alla ricerca del gol del pareggio. Il solito Sant'Agnello questa volta si esibisce nel gioco di Sponda ma Esposito spreca tutto, la prima della classe perde il proprio allenatore per proteste allontanato dalla panchina Domenico Toscano. Ultimo quarto d'ora, destro al giro di capitano Esposito ma nulla di fatto, la regina del giro ne ci capisce che c'è ben poco da scherzare, sfiora il raddoppio, il neo è entrato, Bellobo Pan si allunga a sufficienza, Sarau sui sviluppi del calcio d'angolo, sbaglia di poco la mira, non perdona, poco dopo invece il giocatore della regina che riceve palla in aria, si gira bene in poco spazio e non lascia scampo con il mancino al portiere dei Lucani. 0-2, partita finita, la regina balza così a quota 69 punti in classifica e guarda tutti dall'alto verso il basso, il picerno resta a quota 32 dopo aver tenuto testa i calabresi praticamente per tutta la gara.